Rai for me, I'm the lucky one And I am, I am, I am The lucky one And I am, I am, I am Rai for me, I'm the lucky one And I, I can help me And you tell me I'm the lucky one Adios, kid Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Skyrim, qui col vostro Valle93BA Un pollo! Scherzavo, pollo, l'ultima volta mi hai fatto ammazzare E dunque, oggi siamo qui, siamo a Riverwood, perché? Perché praticamente... aspetta un attimo Allora, prima di tutto, molti di voi mi hanno detto che ridando la chiave, mi sa, come si chiama, l'artiglio dorato al tipo Completo una missione e quindi mi serve, soprattutto perché comunque l'oro è fondamentale Ehm, no, mi sa che non era qua Vabbè, intanto io ho attivato anche la... Ma non mi rompere le palle Dicevo, ho attivato anche la missione secondaria del corno di Jürgen Windcaller Per i barba grigia, che mi insegneranno l'ultima parola del Fusserodà Non capisco perché fino ad ora non l'ho fatto Ehi là Vorrei affittare l'attico? L'attico, eh? Beh, non abbiamo un attico Ma puoi avere l'attico sulla destra Fatti a casa No, fantastico Bene Apriamo un po' Quindi che cosa dovrei fare mo? Oh, ehi Oh, che c'è? Oh, grazie Oh, bene Mi ha dato il corno così, senza far nulla Pensavo che saremmo andati in una qualche Locanda strana piena di barboni Che vogliono uccidermi Ma invece no Come mai? La cosa si fa alquanto bizzarra Ok Ok E qui parte la musica da film a luci rosse Pum, 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 pum What the fuck? Che figata, un armadio finto Lo voglio avere anche a casa mia Che si collega poi ad una Oh Ad una stanzetta piuttosto brutta, devo dire Oh, ehi, però c'hanno delle Oh Spada delle blade È una katana Mia Adoro le katane Nonostante non ne abbia nemmeno una Ok Derubiamo questo posto Ora No Fanculo Bla 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 Leggiamoci questa stronzata Giusto per dire che l'abbiamo letta Bla 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 Wuriel Septim Ok, grazie Prendiamoci la borsa E Allora Togliamoci quello schifo di pugnale A proposito Vediamo com'è la Spada delle blade È una katana Fighissima Toglie 23 però È meno della mazza di vetro Ancora meno dell'ascia d'ebano Magari poi la posso affinare bro Vedremo Chi diavolo ha parlato Vabbè Hai preso tu il corno Ah direi di sì Mi aspettavo qualcuno Più alto Perché tutta questa segretezza Spero tu abbia un buon motivo Per avermi trascinato qui Continua Ti ascolto Come ho detto In mia nota Ho sentito che Tu potresti essere Dragonborn Sono parte di un gruppo Che ha cercato Per te Perché hai preso il corno Perché stai cercando Il sangue di drago Perché hai preso il corno I knew the greybeards Would send you there If they thought you were Dragonborn They're nothing If not predictable When you showed up here I knew you were the one The greybeard sent And not some Thalmor Ok Perché stai cercando Un sangue di drago No già Sì l'ho già fatto Sì E' così che ho scoperto Di essere Il sangue di drago URA Ottimo Cosa mi stai nascondendo Cosa ti fa pensare Che i draghi Che i draghi stiano Resuscitando Mi sembra un buon compromesso Come hai capito Come hai capito tutto questo Oh è vero Già Tu eri a Dragon's Reach Quando l'ho consegnata a lui Era lei Solo che era vestita In maniera diversa Oh salve La pietra del drago Una specie di mappa Sì Una mappa Di mappa Di mappa Ho guardato Quali sono Ora L'uomo Il pattern È abbastanza È chiaro Il sembra di spazio Da sud-est Inizio In Geralds Di Rifton Il primo Di Kynesgrove È il prossimo Se il pattern Si Dove siamo Diretti Kynesgrove C'è un buriale di Kynesgrove Ancina di Kynesgrove Da lì Se possiamo arrivare Prima che ci succede Magari Speriamo come stoppare Ok Un momento Non posso aspettare Per te Per creare la tua mente Vi metterò a Kynesgrove Non perdere il tempo Per arrivare Ok Ottimo Dovrei riportare Il corno Ai barba grigia O la missione Non è ancora Terminata Mi servirà Fittone Cos'è? Oh oh Tutte queste cose Potrebbero servirmi Ne sono più Che sicuro Tutte queste Buua Ah Maletto barile Qua non c'è nulla Oh Pensavate che mi ero Dimenticato di voi No Oh altre frecce E Beh Immagino che Vediamo la missione Oh ecco Consegna Il corno Ad Arnir Bene Andiamo a consegnare Il corno E dopodiché Mi sa Direi proprio che ci dobbiamo dividere Ciao Delphine E complimenti per il nuovo Costume Allora Dunque Torniamo dai barba grigia Da Must Boree Must Wolfgar Must Einard Così possiamo dare il corno E finalmente potremo imparare L'ultima parola dell'urlo della forza inesorabile Fus Ro Da E vedere anche persone come Anzi persone Creature come degli orsi giganti Volare via come fuscelli Dinanzi al nostro rutto poderoso Bua Muoviamoci Comunque no Questa non era una missione secondaria Era una missione principale della storia Quindi Non lo so Probabilmente dopo aver imparato Fuscer Da Vado a uccidere quel drago con Delphine E poi continuo la confraternita oscura Tutto ciò nell'arco di uno o due gameplay massimo Oppure se decido di fare una maxi gameplay da Più di 30 minuti Ehi Ciao Agnir Eh già Oh grazie Ok Seguiamo Ah si Finalmente Sono pronto Sono pronto ad imparare Master Wolfgar Oh salve Master Powerade E' piaciuta l'ultima volta che t'ho ucciso Praticamente Per avere la Abilità furtività al massimo Wow sbrilluccica Grazie Wolfgar La mia forza sta aumentando Lo sento Da chi vuole provare Oh grazie Oh grazie Eh cosa volete fare Ah Oh mio Dio Perché 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 tutto ciò Non ho fatto nulla di male Ah Ancora Mi sento come ubriaco Mi sento come ubriaco No preferisco il mare ragazzi Avete finito Avete finito Oh Master Einhardt Salve Ok Direi che adesso possiamo andare dove ci vuole Delphin E dove ci vuole Delphin Boh Non lo so Speriamo che non sia trappo lontano Allora Ecco Trovo il luogo di sepoltura del drago Oh dai E' qui? Sì E' dalle parti di Windel Quindi Si può fare Perché no Coloro nelle cui vene scorre il sangue del lupo mannaro Non ottengono bonus di riposo dopo aver dormito Il che è abbastanza inutile Visto che comunque non dormo mai io E non mi importa di dormire Poi c'è Il sacramento nero della confraternita oscura Che purtroppo Sto deviando in una maniera A dire poco spaventosa Per via di queste altre missioncine Che trovo durante il percorso Anche solo per arrivare nelle città nuove Faccio di tutto Tranne che la missione che Mi sono prefissato di compiere Però vabbè dai Chi se ne frega Rendiamo il gioco un pochettino più lungo Più di quanto non lo sia Siamo arrivati a più di 40 parti già Salvataggio automatico Allora Arrivo Delphin Wow Cos'è questo lag spaventoso Ok Allora caro drago Sei tu che Tenti la mia Curiosità Oh ehi c'è qualcuno Amici Nemici Amici di amici di nemici Wow Sono dei gattoni No gattoni aspettate Parlatemi I banditi Harassarono i caravani A ogni passo Ma Khajiit Adesso I banditi Ti creano problemi Un po' di giorni Siamo ambusciati Una nuova Ma molti Dei maraudori Avevano Un po' di E tu sei carico A offrire Credo che i banditi Siamo parte di un gruppo Headquartered qui Sei carico Mi ha perduto Il mio amuleto Ma una vita Non può essere Ricordata Come facilmente Ok Si A guardia Della caravana Ma i tuoi amici Se ne sono andati È una tazza E io preferisco Stare a casa In un altro Ma ho un piccolo Cosa Akari Mi ha liberato Da una presenza In Cyrodyl Grazie per il consiglio Bla 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 Ass Non so se te ne sei accorto Ma sei rimasto da solo Gli altri sono andati là Quindi ti conviene Ecco Coenze Ma non portate Travano Ok Corri Kajjarl Perché i Kajjit Hanno tutti dei nomi Così strani Oh no Non c'è un percorso Che mi può Oh sì che c'è Dai Kain's Grove Perfetto Delfin E tu chi sei? Wow Un drago Un drago Io sì Ciao bella Ok Dai gattone Dai gattone Dai gattone Dai gattone Ce la puoi fare No che non ce la puoi fare Sei stupido Ui una lepre Adesso posso fartelo lepre Lo sai vero? La tua vita è in grave Pericolo Fermati un secondo Ti prego Oh Ciao lepre Addio No Molta calma Penso sia volata via Comunque Gran bel effetto Gattone Andiamo Oh comunque Un tempo di ricarica Quasi infinito Il fustro da cavolo Dovrei fare qualcosa A riguardo Vediamo Un drago Un drago che parla? Dov'è Delfin? Delfin Dove cazzo sei? Delfin Wow Che ha fatto? Anche questo drago È capace di urlare? Oh Uh È vero Ha risuscitato Un altro drago Delfin Dov'è? Delfin Ok Preparati a incontrare Il tuo destino Oh Ehi Gran bel colpo Tu Dove credi di scappare? Oh Vabbè Dove diavolo? Oh Ma la sto sentendo La tua voce amico Eh vabbè È stato bello Parla Delfin Oh Era lì Si stava prendendo Oh Rossa Scaglie Arco Che esco Riverto Riverito Che vuol dire? I non morti di rivero 13 scappano per 30 secondi Non mi interessa ma me lo prendi Guarda Delfin Oh È questo? Soldato manto della tempesta Poveraccio Prendiamo tutte le sue cose Elmo di cuore No 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 Ok Non mi interessa Prendiamoci l'anima Uuuu L'anima Sono immortale Donna Non lo sapevi? Avevi dubbi Delfin? Io no Eh già Dunque Tu chi sei e cosa vuoi? Sono uno dei ultimi membri delle Blades Un molto tempo fa Quindi sei anche tu una nuova serva? Ottimo Tu e Lidia potete stare a casa mia Ah Devo fare lo zerbino anche qui Ottimo Cosa sai sul ritorno dei draghi? Non una vera cosa Sono solo sorpresa Che tu Per trovare Il big black dragon Qui Ho già visto Quel drago prima Quello che è fuggito E' stato Quello che ha Attaccato Elgen Quando Ulfric E' fuggito dagli imperiali E' vero Era lui Interessante Sto 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 Ehm Ok Parlami delle Blade Chi sarebbe? Ottimo Signale Che nessuno ricorda il nostro nam על dei tempi Ottimo Devano essere natati across Tamriel As il protettore degli Empire Soperem Ma Queste giorni sono lunghi Mi ha messo Ah Eh beh Esatto, finora. Qual è la prossima mossa? La prima cosa che abbiamo bisogno di fare è trovare chi è dietro i draghi. I Thalmor sono il nostro migliore leader. Se non sono involonti, sapranno chi è. Non è solito, ancora. Ma il mio corpo mi dice che non può essere nessuno. L'Empire ha capito Ulfric. La guerra è praticamente finita. Poi un dragone attacca, Ulfric escapisce e la guerra è tornata. E ora i dragoni attacchano in tutto il mondo, indiscriminatamente. Skyrim è fortissimo, l'Empire è fortissimo. Chi altro si guida da quello ma il Thalmor? Effettivamente, non saprei. Dobbiamo scoprire cosa sanno i Thalmor sui draghi. Qualche idea? Se potremmo entrare in l'Empire Thalmor, è il centro delle operazioni in Skyrim. Probabilmente è che il posto è giocato più caldo di un po' di misura. Poi potrebbero insegnare un po' di cose sull'Empire Paranoia. Un'operazione in stile Solid Snake. Mi piace. Come facciamo entrare nell'ambasciata? Non è sicuro ancora. Ho un po' idee, ma ho bisogno di tempo per portare cose insieme. Vi metti in Riverwood. Se non sono tornata quando arrivi, aspetti per me. Non dovrei essere lunga. Ok. Non avvicinarti di più, ok? Battene. Ok. Iniziata immunità diplomatica. E tu? Aspetta un attimo. Ho in mente una cosa. Hmm. Vediamo un attimo. Oh! Che diavolo! Volevo solo rianimare il cadavere di questo drago. Vediamo se magari con l'altro incantesimo ci riesco. Oh! A quanto pare i draghi non si possono assolutamente rianimare. Aha! Sta tornando indietro. E non possono nemmeno volare via così. Va bene ragazzi. Io diri che questo gameplay può terminare qua. Ricordate di mettere mi piace e commentare. Mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto. Iscrivetevi se vi va. E un ciao dal vostro Vare93B. Ciao!